allora finisce qui a Ricinello 3 a 3 un secondo tempo spettacolare nel senso che comunque tanti tante situazioni di gioco tanti gol tanti errori da parte di entrambe le squadre quindi si temeva anche in qualcosa di peggio per l'SD Keita che riesce a pareggiare sul finale proprio al fischio della fine ha aspettato appunto l'altile che si andasse in onda con un'ultima azione e ha fischiato però il gol è arrivato qualche minuto prima quello del pari ma ci sono stati varie azioni del gol da parte di entrambe le formazioni ma più per il Keita nella parte finale del secondo tempo dopo che aveva raggiunto il pari dopo il 2 a 1 dopo il 2 a 2 c'è stato il 2 a 2 il vantaggio diciamo iniziale dell'epicovero per 2 a 1 è stato diciamo un'infortuna del portiere però comunque si era immediato poi di nuovo in vantaggio l'epicovero e sul 15 minuti al termine arriva al pari del Keita ma poi del finale ha spento tantissimo Keita per cercare di portare a casa la vittoria non c'era riuscito perché comunque mancava poco però troppi errori in base di impostazione e rilancia da parte di alcuni giocatori ma è chiaro che anche il manto qui a Keita che è scivolosa ha portato qualche errore di troppo meglio così comunque il pari è meglio che una sconfitta casalinga quindi appuntamento a domenica prossima qui il finale Gaeta contro Vicovero 3 a 3